Modulo 1. Ricette rituali e loro documentazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e digitali. Etnografia, quale ricetta e ritual, criteri di valore storico e culturale per la conservazione delle ricette. Ricette rituali come risorsa di tecniche tradizionali e artigianali. Al giorno d'oggi i media diventano cruciali per promuovere le antiche tradizioni locali, la cultura, il patrimonio, affinché gli altri possano conoscere, imparare e replicare. È possibile filmare testimonianze, processi produttivi e rituali, conservandoli in ricordi che non conoscono limiti e conservano la conoscenza del mondo. Le tecnologie si sono spostate, con una velocità inaspettata, dal computer al cellulare, e Internet ha raggiunto ogni angolo del mondo, rendendolo un mondo globale, una comunità digitale con ampi interessi e possibilità. I media sono diventati elementi sempre più popolari nella nostra vita quotidiana. Forniscono un contesto, in cui le persone, in tutto il mondo, possono comunicare, scambiare messaggi, condividere conoscenze e interagire tra loro, indipendentemente dalla distanza che le separa. Il patrimonio culturale immateriale, compreso il patrimonio e le esperienze gastronomiche, sono cruciali nella raccolta di esperienze interculturali attraverso il processo di promozione e valorizzazione del patrimonio culinario. Il mangiare implica l'intersezione di strati sociali, politici, economici, ecologici e simbolici, il che significa che, un ponte tra natura e cultura e le storie dei media, possono essere un forte catalizzatore per trasmettere gli aspetti sopra menzionati alla società. I turisti, in generale, hanno aspettative sulle cucine straniere ed esotiche, sulla genuinità dei cibi locali. Poiché il cibo è, al massimo, una cosa alla portata del turista, i contenuti multimediali sono una fonte molto importante e un elemento inevitabile nella creazione di percorsi e raccomandazioni per un'esperienza di viaggio autentica e unica. Le persone, i turisti, tendono a utilizzare i media per integrarsi maggiormente nella cultura ospitante durante la loro visita. Se la comunicazione di massa nel XX secolo era meglio caratterizzata come un sistema «uno a molti», in cui editori ed emittenti raggiungevano un pubblico in attesa, i mass media, grazie alle reti di informazione digitale, nel XXI secolo hanno assunto un formato «molti a molti». molti tipi di media, audio, video, testo, animazione, sono stati riuniti su piattaforme globali di computer e reti mobili, il che consente agli utenti di creare e promuovere i propri contenuti. Sebbene i social media tendano a formare il loro pubblico specifico e abbiano la loro forza unica in alcune aree, i canali stanno ampliando il loro spettro di possibili elementi testuali, fotografici, audio, video, grafici e di gioco, in modo che, alla fine, diventino enormi motori di produzione culturale con molte possibilità per gli utenti. Nelle prossime diapositive osserveremo i moduli multimediali. Il modulo multimediale è un linguaggio utilizzato da una storia e può includere testo, fotografie, illustrazioni, film, audio, saggistica grafica, moduli interattivi e molto altro. Queste forme vengono quindi riprodotte da qualche parte e quel luogo è un canale multimediale. Oggi le storie che raccogliamo sono multimediali, perché caratterizzate dalla compresenza e dall'interazione di vari linguaggi, testi scritti, immagini, suoni, crossmedia, perché le piattaforme trasportano i contenuti attraverso i vari canali con adattamenti stilistici per allineare il mezzo e il linguaggio, e a volte sono transmedia, perché diventano parte di un processo in cui gli elementi integranti di una finzione vengono sistematicamente dispersi su più canali di distribuzione allo. Scopo di creare un'esperienza di intrattenimento unificata e coordinata. Esempio di storie multimediali. Lo storytelling digitale si riferisce a contenuti coinvolgenti e interattivi pubblicati sul web. Il principale aspetto di successo di una buona storia digitale è un buon contenuto. Dovrebbero essere ben studiati e scritti in modo coinvolgente, con uno storyboard chiaro. Crossmedia significa che è un contenuto tecnicamente e visivamente sviluppato in un modo che permette di raccontare una storia e pubblicarla in molti canali e media diversi. La distribuzione può includere testo, immagini e video, ma raccontano tutti la stessa storia allo stesso modo. Con Transmedia non raccontiamo più una sola storia. Raccontiamo tante storie. Ogni storia è completa in sé e per sé, ma molte di esse, nel loro insieme, ampiano la nostra comprensione dell'argomento più ampio. Lo storytelling transmediale si sforza anche di prolungare il coinvolgimento con una storia non ripetendosi. Raccontiamo più storie diverse in forme diverse e le posizioniamo su molti canali. Il corso è stato creato dal consorzio del progetto Eurica finanziato dal programma Erasmus Plus. Grazie per l'attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.